Priace volta pagina. Dopo 15 anni di amministrazione lucano è iniziato ufficialmente con l'insediamento del nuovo consiglio comunale l'era Trifoli, il neosindaco vicino alla Lega di Salvini accolto da un bagno di folla davanti al municipio. L'eredità che raccoglie di quelle pesanti. Normalità sarà la sua parola d'ordine, il luogo del clamore mediatico ricevuto in questi anni per via del sistema di accoglienza. Un sistema che, secondo Trifoli, non va smantellato ma ridimensionato. Riace sarà sempre il paese dell'accoglienza. L'unica cosa che cambierà con la mia amministrazione sarà il modo di fare accoglienza perché, così come diceva il nostro simbolo, noi faremo tutto nel rispetto della trasparenza e della legalità e nel rispetto anche dei numeri possibili che si possono sopportare. Intanto domani a Locri inizierà il processo a carico dell'ex sindaco Mimmo Lucano, alla sbarri insieme ad altri 26 imputati per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comune, tuttavia, ha deciso di non chiedere i danni. In questa fase noi preferiamo non costituirci parte civile perché, da un punto di vista legale, il comune non risulta essere una parte lesa e sarebbe anche un accanimento verso persone che ancora devono chiarire la posizione. Per Trifoli è arrivata anche la benedizione dei big del centrodestra calabrese, con in testa il parlamentare azzurro Francesco Cannizzaro. Mi auguro che possiamo essere accanto a questa nuova amministrazione e dare a Riace, contribuire a dare a Riace quel valore che merita, ricordando che Riace è una comunità figlia di quella magna Grecia e di quella cultura che a noi piace bene ricordare. Ilario Bali per la Cineus 24